Ciao Matteuccio, ciao Serico. Senti, ti ha chiamato Fonzie e Betino e ti ha mandato a fanculo tutti i giorni, no? Sei in massa alla stampa di Falazzo Filippo. Ah, scusa, vabbè, ha detto lui i parolacci. Ah, vabbè. Però, allora, adesso, mi raccomando, non essere vendicativo. Gli vuoi di una parola bella a Beppuccio nostro dopo sta mazzata tra capo e collo che ha preso? Una parolina bella, ma la dici? Per Beppuccio nostro. Andrew Fati, Bloomberg. Passare dall'Aiene a Bloomberg, con questo differenza, persino lui ci sta per mettersi a ridere, ma regge da consumato professionista qual è. Prego, rispetto alla domanda di Luci su... Una parolina da voi che non forza. Mi sembra di averne dette abbastanza in questa conferenza. Una sola, una da voi. Una cosa bella, che non gli offre. Benissimo. La detta Luci, credo che abbia rappresentato il sentimento di tutti voi che siete qui presenti, oltre che il mio. Quindi, diciamo, sei autorizzato a andare a incontrarlo e a dargli il messaggio tuo a nome mio. Devi decidere. Devi decidere, tu sei autorizzato. Noi siamo per la delega, per un impianto partecipativo, però con la delega, senza il ballottaggio, ma con lo scorporo e il premio di maggioranza. Per cui, se siete d'accordo, potrebbe essere Luci che sicuramente non mancherà di raggiungere Sant'Ilario e di dare... Chi non c'è? Dai. Gli diresti, invece, li voglio bene? E siamo a Bloomberg che ha chiesto di domandare se... La... This is Italian Press. No, Italian Press. Italian Show System. Ok.